Il male fluisce da un'antica fortezza nascosta nella profondità fra le montagne, un luogo maligno risvegliatosi da poco. I goblin hanno un nuovo capo pronto a eseguire i crudeli ordini di Sauron. Se questo sinistro personaggio verrà eliminato, i goblin saranno dispersi e confusi e la morsa di Sauron si allenterà. Nei tempi antichi, gli Erembrulli erano la dimora del re stregone di Angmar. Ora il nuovo leader dei goblin ha conquistato queste terre. Glorfindel! Aldir! Grazie al cielo siete qui! I goblin ci stanno annientando! Presto, possiamo ancora salvare la nostra gente! Continuo senza di me. Io andrò a cercare rinforzi. E' una cosa che non va. Rapidi! So da che parte andare. Farò strada io. Dobbiamo andare! Rapidi! I goblin sono troppi! Sono sulle nostre tracce! Il male si è diffuso in queste terre. Dobbiamo resistere all'impeto nemico! Non dobbiamo tardare! Alfi! All'attacco! Il nemico si è accampato... Muori, creatura dell'ombra! Poniamo fine a tutto questo! Non ci fermiamo mai! Mostriamogli le loro tombe! Il nemico si è addosso! Dobbiamo fermare l'ombra! Armi pronte, elfi! Attenzione al nemico! Gli elfi sono pronti! Elfi, qui! Dobbiamo radunare le nostre forze! Questo luogo non è loro! Tiriamo! Attenziamo il male! Con me! Dobbiamo andare! Facciamo piano! Farò strada io! Corro a pività! So da che parte andare! Il male incombe su di noi! Colpiamo con rapidità! Forza! Questa è la via! Con rapidità! Rapidi! Silenzio! Con rapidità! Dobbiamo andare! Questa è la via! Rapidi! Il combattimento ha avuto inizio! Questa è l'ultima esistenza vicini ai... Fino alla fine! Sta arrivando! Poniamo fine a tutto questo! Sono tornato con dei rinforzi! Passiamo a fil di spada a quelle bestie! Dobbiamo liberarci dai serbi di Sauron! Che non si salvi nessuno! Basta, Frecce! Sorvegliamo quest'area! Non possiamo fallire! Dobbiamo rinforzare... A nord si trova un'ent a consulta! Gli ent ci aiuteranno ad abbattere queste mura! Armi pronte, elfi! Di qua! Prepara una fortezza! E spazza via una volta per tutte queste luride creature! Ecco i rifornimenti per la costruzione! Arriviamo! C'è del lavoro da fare! È ora di costruire! C'è del lavoro da fare! La struttura è ultimata! Materiali in arrivo! Quanto dobbiamo aspettare! C'è del lavoro da fare! Abbiamo finito con questa struttura! Costruiamo su questa terra! Dove dobbiamo costruire? La fortezza è pronta! Questo tamburo! Richiama i giganti di montagna! Materiali in arrivo! Deve essere distrutto! Non possono sfuggire a un nano! Sarò una palida guida! Andiamo! Ecco i rifornimenti per la costruzione! Gli eserciti dei Goblin spadroneggiano sulle montagne! E se non interveniamo subito, torneranno a minacciare Gran Burroa! Abbiamo la giustizia sul nemico! Dobbiamo ucciderli tutti! Andiamocene da qui! Il costruttore è in pericolo! Abbiamo finito con questa struttura! Intrusi! Il combattimento ha avuto inizio! Teniamoli a vada! Che i nostri spiriti siano saldi! Purifichiamo le nostre terre! Distruggiamo le creature del male! Arriva la loro fine! Parti! Non devono sopravvivere! Dove dobbiamo costruire? Perciò che sono le nostri disposti! Muoviamo il carro! C'è molto da fare! Ecco i rifornimenti per la costruzione! È ora di costruire! Prepariamo gli attrezzi! Materiali in arrivo! La nostra bella città cresce! Stavo solo riposando gli occhi! Ci attaccano! Teniamoli a bada! C'è qualcosa che non va! La struttura è ultimata! E loro dove sono? Dove dobbiamo costruire? Sono pronto! La caserma è stata completata! Costruiamo su questa terra! Materiali da costruzione! Prepariamo gli attrezzi! Attaccano gli insediamenti! Materiali in arrivo! La nostra bella città cresce! Attaccano il nostro costruttore! Materiali da costruzione! Ancano ai! Non possono sfuggire a un nano! Dobbiamo radunare le nostre forze! Dobbiamo liberarci dei servi di Sauron! Sarò una valida guida! Ecco la nuova fortezza! Avanti! Qui! Non contamineranno più queste terre! Il nemico ci ha addosso! La nostra via è chiara! Buttiamo giù tutto! Invasori! Distruggiamoli! Sarò al tuo fianco! Vediamo cosa sanno fare! Dobbiamo resistere all'into del nemico! Forse ti abbandonano! Questo luogo non è loro! Abbattiamo queste mura! Ripariamoci! Mettiamoli a tacere! Silenzio! Torniamo al castello! Combe su di noi! Il combattimento ha avuto inizio! Qui! Dobbiamo andare! E ora si avvicina! Indietro, elfi! Con me! Avanti! Con me! Andiamo! Il costruttore è in pericolo! Intrusi! Conosco questi luoghi! Ammazzate il costruttore! Andiamo! Dobbiamo difendere i nostri confini! Non possiamo restare qui! È in pericolo! So! Cos'è? E chi? E… E c'è! No! Ci stanno invadendo! C'è qualcosa che non va! Alvin! Dobbiamo resistere all'invento nemico! Ce ne sono altri! Sarò al tuo fianco! Dobbiamo radunare le nostre forze! Protecerò la nostra gente! Dobbiamo difendere i nostri confini! Andiamo! Eccoli! Attacchiamoli! Avanti! Le strutture del nemico sono vicine! Andiamo! Un troll di caberno! Avanti! Purifichiamo le nostre terre! Il male incombe su di noi! Andiamo ce n'è da qui! Inclusi! I giganti di montagna continuano ad arrivare! Qualcuno distrugga quel tamburo! Spaziamoli via dalla terra! La nostra via è chiara! Andiamo! Circondiamoli! Il combattimento ha avuto inizio! La nostra via è chiara! Con me! Avanti! Non possiamo restare qui! Nemico si è accampato! Ora elfi all'attacco! Ci stanno invadendo! Distruggiamo le creature del male! La nostra via è chiara! Con me! Andiamo! Buttiamo giù tutto! Queste sono le loro strutture! Attiriamoli lontano! Non possiamo restare qui! Questo nano è pronto! Sarò una valida... Da guida! La nostra via è chiara! Non possiamo restare qui! Andiamo! Cancelliamo la loro presenza! Ecco i rifornimenti per la costruzione! Stavo solo riposando gli occhi! Dove dobbiamo costruire? Costruiamo su questa terra! Elfi! Non possiamo restare qui! Andiamo! La nostra via è chiara! Non possiamo restare qui! Qui! Avanti! La nostra via è chiara! Non possiamo restare qui! Con me! Non possiamo restare qui! Intrusi! La base è nemica! Qui! Non possiamo restare qui! Ora abbiamo una nuova struttura! Avanti, Elfi! Alla battaglia! Il nemico ci ha addosso! Selvaggi! Non possiamo fallire! Non devono sopravvivere! Non sopravvivere! Il combattimento ha avuto inizio! Non sopravvivere! Ahah! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Facciamogli chinare il capo! Robati un potello! Ehi, ha ha ha! Oh che po 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 po! Ma che giocanota da tutto! E così il problema è risolto! Non contamineranno più queste terre. Buttiamo giù tutto! Andiamo! Le strutture del nemico sono vicine. Avanti! La nostra via è chiara. Avverto un'oscura presenza. Il nemico è alle porte. Sento l'odore della carne degli Eldar. Il male incombe su di noi. Uccidiamo gli impi, brusi alzi! Non contamineranno più queste terre. Andiamocene da qui! Salvatemi! Dobbiamo resistere all'impeto nemico! Loin è stato ucciso! Ora Elfie, all'attacco! Elfie, venite in mio soccorso! Non possiamo fallire! Elfie! Con me! Ecco i rifornimenti per la costruzione. Stavo solo riposando gli occhi. Prepariamo gli attrezzi! La base nemica! Abbiamo il nido dell'aquila! Davvero un bel posto! Che i nostri spiriti siano saldi! Conosco questi luoghi! Dobbiamo liberarci dei Servi di Sauron! Averto un'oscura presenza! Avanti! Il mio lavoro qui non è finito! Cerca di non fare lo spiritoso! Non mi piace stare qui! Dobbiamo difendere i nostri confini! La fortezza è pronta! C'è del lavoro da fare! È ora di costruire! Dobbiamo stare allerta! Qui siamo in posizione vantaggiosa! Andiamo più in alto! Esploriamo la zona! Ecco la nuova fortezza! Sorvegliamo quest'area! Cambiamo posizione! Il male si è diffuso in queste terre! Portiamo la giustizia sul nemico! Non possiamo restare qui! Avanti! Le strutture del nemico sono vicine! Non possiamo restare qui! Buttiamo giù tutto! Spaziamoli via dalla terra! Qui! Con me! La nostra via è chiara! Cancelliamo la loro presenza! Distruggiamo le creature del male! Il nemico ci ha addosso! Sono pronto! C'è molto da fare! Dove dobbiamo costruire? La struttura è ultimata! Arriviamo! Conosco questi luoghi! Elfi! Arcieri di Bosco Atro! Esploriamo la zona! Da questa parte, Arcieri! Sorvegliamo quest'area! Esploriamo la zona! La foresta di Fangorn sorgerà! Le risorse scarseggiano! Ecco i rifornimenti per la costruzione! C'è molto da fare! Gli alberi si stanno risvegliando! Abbiamo finito con questa struttura! Abbiamo potenziato la cucina! Davvero un bel posto! Dobbiamo stare all'elta! Attenzione al nemico! Restiamo sempre pronti di spirito! Ora abbiamo il porta stendardo! Gli elfi sono pronti! Dobbiamo liberarci dei servi di Sauron! Proteggerò la nostra gente! Qui! La nostra bella città cresce! Abbiamo la nuova corazza! Abbiamo finito con questa struttura! Avanti! La nostra via è chiara! Lame forgiate pronte! Qui! Andiamo! Qui! Qui! Il nemico si è accampato qui! Intrusi! Avvisiamo gli altri! Il nemico è alle porte! Possiamo scoprire il Veccio d'Argento! Purifichiamo le nostre terre! Buttiamo giù tutto! Liberiamoci di loro! È stato ferito! Intrusi! Il combattimento è morto! Il re dei Goblin è morto! Le nostre terre sono di nuovo sicure! Non possiamo fallire! Eccoli! Attacchiamoli! Non possiamo restare qui! Non devono sopravvivere! Circondiamoli! Li attaccano! Non corromperanno più questo luogo! Dobbiamo ucciderli tutti! Il palbero è caduto! Attiriamoli lontano! Spaziamoli via dalla terra! Il nostro abisoglio c'è vicino? Dobbiamo resistere all'impeto delico! Venite in mio soccorso! Cancelliamo la loro presenza! La nostra via è chiara! Non contamineranno più queste terre! Spaziamoli via dalla terra! Indietro, elfi! Qui! Non possono sfuggire a un nano! C'è qualcosa che non va! Queste sono le loro strutture! Annientiamo il male! Quanto dobbiamo aspettare? Il nemico è alle porte! Il male si è diffuso in queste terre! La loro malvagità finisce qui! Annientiamo il male! Questa è la via! La loro malvagità finisce qui! Dobbiamo difendere i nostri confini! L'ombra è stata ricacciata! Per silenzio che segue la battaglia Un solitario nano appena liberato chiede l'aiuto di Glorfindel e Gloin Il clan dei nani dei Monti Azzurri è minacciato da un terribile drago che si dice abbia accettato di combattere per Sauron in cambio degli anelli del potere dei draghi rubati molto tempo fa dai nani Chiede la loro malvagità